Allora, cominciamo questa giornata. Allora, innanzitutto chi sono? Allora, sono Palinuro e sono attualmente, come già sono stato presentato, il team leader del progetto Parrot, che ovviamente è un sistema operativo dedicato alla sicurezza informatica, dedicato al presentare degli strumenti già pronti per poter lavorare, giocare o studiare in tutto il mondo che ha a che fare con la programmazione, con la sicurezza informatica. Ogni tanto devia anche nella digital forensics, ma là ci sono strumenti molto migliori, ma soprattutto ho anche una mia vita all'interno di tante altre attività. Come già stato detto, sono diventato di recente parte del Debian PKG Security Team, ossia tutti i team di sviluppo di Parrot, Kali, Linux, Backbox e liberi contributori si uniscono all'interno di Debian per collaborare tutti assieme a mantenere strumenti di sicurezza. Dopodiché sono socio di Italia Linux Society, che è l'ente nazionale che coordina i Linux Day in Italia. Sono una militante di Free Software Foundation Europe, dove insieme a Francesco Bonanno, che vedrete dopo ai banchetti coi gadget, collaboriamo e cerchiamo di mantenere all'interno della Sicilia una presenza di Free Software Foundation Europe. Sono stato parte di Electronic Frontier Foundation, qui come referente in Sicilia. Poi a quanto ho capito i progetti localizzati all'interno di IFF sono stati chiusi, non ho più avuto notizie, poiché IFF prevalentemente si occupa dell'aspetto legale all'interno degli Stati Uniti. E dopodiché ovviamente sono socio Free Circle. Pertanto ho una vita iperattiva all'interno del mondo del software libero, nonostante a me piaccia smanettare, a me piaccia avere a che fare con cose anche abbastanza tecniche a volte, oggi mi tocca fare un talk un po' diverso dal mio solito. Non mi metterò a parlare di kernel hardening, non mi metterò a far finta di saperne qualcosa di digital forensics, non vi riempirò le orecchie di cose piuttosto tecniche, ma ho fatto quella che per un relatore di un Linux Day è forse la cosa più difficile che si possa fare. Ossia parlare delle cose forse più semplici, presentare l'ABC. Il talk di oggi che vi farò vi parlerà di cos'è il free software, di cos'è il software libero, quali sono le differenze con l'open source, quali sono le differenze con il software proprietario e perché questo è importante nel mondo della privacy. E straordinariamente lo farà anche in modo abbastanza succinto. L'ultima volta che l'ho fatto ci ho messo l'ottore, quindi sarà un'impresa. Però proviamoci dai. Innanzitutto vorrei che riflettesse sul concetto di software, perché oggi noi siamo abituati al fatto che il software sia un programma che gira su un calcolatore, che gira su un computer. In realtà un software è un qualsiasi elenco di istruzioni che un computer, una persona o qualunque altra cosa possa eseguire. Un programma non è nient'altro che un elenco di istruzioni, un elenco di informazioni che possano essere usate per ottenere determinati risultati. Delle indicazioni stradali sono un programma. Una ricetta di cucina è un programma. Sono tutti quanti dei software effettivamente. Quando noi parliamo del mondo del computer ovviamente parliamo di uno strumento, di un calcolatore che è davvero capace di fare tantissime cose. In realtà è un elemento molto semplice. Vorrei farvi notare la differenza tra facile e semplice. Sono due concetti molto ma molto diversi. Facile è qualcosa di immediato utilizzo che non richiede grande conoscenza per essere usato e così via. Semplicità è totalmente un'altra cosa. Richiede essenzialità. Sostanzialmente un computer esegue operazioni. esegue programmi. Fa ciò che noi diciamo. E per questo, siccome noi siamo in grado di programmarli, siamo anche in grado di far rifare tantissime cose. Il problema è che noi quando usiamo un computer non lo programmiamo in realtà. Noi usiamo programmi fatti da altri. Pertanto questi programmi ovviamente vengono scritti in un linguaggio comprensibile all'essere di costruire la macchina. Nel caso in cui programmiamo. Nel caso in cui noi non programmiamo siamo vincolati a usare ciò che uno sviluppatore ha programmato per noi. Pertanto mentre noi siamo sicuri di avere il nostro computer, di averlo comprato, mentre siamo convinti che quel computer sia nostro, in realtà c'è qualcuno che comanda ciò che noi possiamo fare. Ossia un qualcuno ha creato un set di istruzioni, ha creato una gabbia dentro la quale noi siamo sicuri di essere liberi ma in realtà siamo vincolati alle scelte che quella gabbia ci consente. Il grande problema appunto è che noi non pensiamo, non possiamo pensare di controllare un computer ma noi siamo vincolati a tutti quei settaggi, a quelle impostazioni, a quei programmi che altri hanno voluto sviluppare per noi. Il computer pensa ciò che gli è stato sviluppato. Il computer è capace di pensare con ciò che i programmi dicono di fare. Se noi non programmiamo il computer non fa quello che noi diciamo. Pertanto se noi siamo un gruppo di sviluppatori e collaborativamente cominciamo a creare questi programmi affinché altre persone li possano usare, noi come collettività abbiamo il controllo di tale software. Ma se questo software in realtà è stato scritto da qualcun altro sarà sempre quel qualcun altro a controllare quel software e di conseguenza gli utenti. Perché il computer oggi non lo usiamo come calcolatrice per fare calcoli e così via. Oggi il computer lo usiamo come strumento attraverso il quale noi veicoliamo l'intera nostra vita digitale. E nel momento in cui la nostra vita digitale è rappresentativa della nostra vita reale, noi affidiamo a terzi la nostra vita reale. Pertanto attraverso questa forma di controllo sviluppatori che di certo non hanno a che fare con la community possono benissimo sapere cosa noi facciamo, quindi quali sono le nostre preferenze, possono impedirci di fare determinate cose. Ecco che decade la nostra libertà. Pensate ai DRM, pensate alle impossibilità di clonare un DVD. Voi comprate quel DVD esattamente come un libro, voi siete in possesso di quell'oggetto. Ma se un libro nel momento in cui si sta per danneggiare potete provare a rilegarlo, potete provare a fotocopiarlo e così via, il vostro DVD che avete regolarmente comprato e di cui siete legalmente proprietari, non potete copiarlo perché vi è stata nascosta una parte di quel programma che vi nega la possibilità di avere quell'oggetto vostro. Voi perdete la proprietà di quell'oggetto. Pensate ad Amazon. Che bello trasformare il mondo dei libri, guardate la lettura è qualcosa che forse noi informatici dovremmo un po' riprendere. Però se ci pensate, i libri digitali non sempre sono in nostro controllo. È bello avere un PDF e poterlo leggere ovunque perché il PDF è ormai un formato universale, ma pensate al Kindle, pensate ad Amazon che anni fa ha rimosso 1984 il libro di Orwell, non solamente dal suo store ma anche da tutti i dispositivi nel quale era regolarmente installato. Voi uscite il vostro Kindle, lo connettete a internet e all'improvviso vi sparisce un libro. Non siete più controllori della vostra vita, non siete più controllori dei vostri oggetti, non siete più controllori di ciò di cui pensavate di avere una proprietà. O pensate a quando questo software vi obbliga a fare determinate operazioni come upgrade forzati o downgrade forzati che possono farvi rinunciare a determinate funzioni per le quali avevate scelto quel software, per il quale avevate scelto di fare quel compromesso di rinunciare a un po' di vostra libertà per avere effettivamente quelle funzioni. Pertanto sorge anche un problema relativo alla sicurezza. Ci sono compagnie che sviluppano software proprietario, software che vi nega questa libertà, ma che hanno tutto l'interesse affinché questi software siano sicuri, tutto l'interesse affinché questi software proteggano la vostra privacy. Ma faccio un esempio, non dovrei fare nomi di aziende, ma gente un po' più importante di me come Richard Stallman li fa volentieri, quindi concedetemelo. Microsoft potrà anche fare un Windows sicuro e ben sandboxato, con tutte le policy di sicurezza corrette, con i determinate cose, ma Windows non è protetto per proteggervi, non è sviluppato per proteggervi da Microsoft. Microsoft avrà sempre la sua backdoor universale per potervi controllare il vostro computer. Non lo fa perché ovviamente è una grande azienda e così via, però ci sono casi, e sono stati dimostrati, nel quali bug volontari, vulnerabilità volontaria all'interno del software sono state inserite e sono state comunicate ad agenzie governative che praticano uno spionaggio di massa affinché fosse più facile controllare le persone. Nel caso dell'NSA voglio dire, nulla che mi sto inventando, ci sono persone come Snowden che potrebbero insegnarvelo meglio di me. Pertanto, se noi accettiamo il compromesso, se noi diciamo che siamo disposti, ci conviene rinunciare alla nostra libertà e alla nostra sicurezza, perché effettivamente i vantaggi di quel software ci possono servire, pensate cosa succede quando questa scelta viene compiuta da una pubblica amministrazione, viene compiuta da una scuola. cosa succede quando è una scuola o un catasto a mettersi in mano a un software che la scuola o il catasto non possono controllare? Succede che non è solamente il singolo a perdere la libertà, ma sono tutte le persone che dipendono da quel singolo che ha fatto la scelta. Pertanto se il catasto di Palermo non usasse un software libero, non è solamente il catasto a non avere il controllo di quei dati, ma siamo anche noi cittadini a non avere più il controllo, la sicurezza che quei dati siano conservati per come andrebbero conservati in un catasto, nel caso dei catasto digitali. Non solo, ma se il software utilizzato, se l'azienda che sviluppa quel software dovesse fallire e non è stato sviluppato un sistema di documentazione adeguato, sarebbe anche impossibile recuperare quei dati e trasferirli su un altro software. È già capitato, credo in Sud America, che governi che hanno adottato software proprietario si siano ritrovati esclusi dai dati dei cittadini, perché hanno aggiornato una versione del software e non hanno più distribuito quella precedente, perché l'azienda è fallita, perché il software ha corrotto il database in quale erano archivati questi dati e così via. Ci sono già casi in cui questo è successo, in cui il software proprietario ha impedito di avere il controllo di quei dati e ha causato gravi danni a enti governativi, scolastici, pubbliche amministrazioni e così via. Pertanto, nel momento in cui noi accettiamo questo compromesso, saremo sempre schiavi di qualcun altro. Qualcun altro avrà sempre il controllo per noi. Non solo, ma non ci dicono come queste cose funzionano. Pertanto, l'unico modo che noi abbiamo per comprendere, per aggirare queste misure di sicurezza, per difendere lo sviluppatore da noi, come se noi fossimo il problema nel voler utilizzare, nel voler avere il controllo del nostro computer, l'unico modo che possiamo fare è prendere questa scatola chiusa, questa scatola della quale non siamo autorizzati a sapere cosa c'è dentro e siamo costretti a commettere un atto di illegalità, ossia violare la licenza. Violare la licenza nel senso che laddove non siamo autorizzati a sapere cosa fa il programma, lo andiamo a scoprire da soli. La reverse engineering è una tecnica che ci permette di, studiando il linguaggio binario, studiando il linguaggio che il calcolatore capisce, cercare di indovinare, e cercare di intuire cosa quel software effettivamente faccia e quindi capire come potrebbe salvare quei dati, come poterli recuperare e così via. Questa è una tecnica che spesso viene fatta in digital forensics. Pertanto, se il software libero non ci consente, non ci dà l'autorizzazione ad accedere alla comprensione di questo software, il software libero è sicuramente quella che ci dà tutte queste possibilità. Laddove il software proprietario non ci aiuta, noi col software libero possiamo avere questo diritto, possiamo conquistarcelo. Pertanto, la reverse engineering ovviamente non è una cosa per tutti, è molto complicato reversare un software, ci sono tecniche per renderlo ancora più difficile, e quindi non tutto il software attualmente è stato reversato, non di tutto il software in circolazione, sappiamo effettivamente cosa ci sia sotto. Poi se si entra nell'hardware, come nel caso di dispositivi elettronici, del quale non ci è dato sapere come funziona, la cosa diventa ancora più difficile. Pensiamo alla scrittura di un driver per utilizzare una stampante del quale il produttore non ci ha detto come funziona. Se vogliamo utilizzare quella stampante con un software diverso, dobbiamo capire come dialogare con questa stampante, ma il linguaggio utilizzato non c'è stato dato, non c'è stato comunicato, non è stato documentato. Non solo, ma spesso le aziende traggono profitto dal negare questa libertà, e addirittura telgono show in cui mostrano quanto sia bello rinunciare a queste libertà per avere l'ultima feature, per avere determinate funzioni civetta che poi tendono a portarci a comprare quel prodotto. Diciamo che è di moda utilizzare software proprietario ormai. La moda ci spinge anche a una nuova frontiera della negazione dei diritti digitali, che è quella del cloud. Voi come ve lo immaginate un po' il cloud? Caricate i vostri dati e qualcun altro li elabora per voi. Dove in una nuvola, in una grande nuvola, dove tutti quanti insieme abbiamo questi dati, non sappiamo esattamente dove sono. In realtà il cloud è semplicemente il computer di qualcun altro. Per cui se con il software proprietario noi perdiamo il diritto di sapere cosa succede nel nostro computer, con il cloud noi rinunciamo al diritto di sapere cosa succede con i nostri dati. Addirittura non passa più nemmeno dal computer questo tipo di informazione. Sono direttamente in mano a qualcun altro, non solo, ma la nostra sicurezza non è più in mano alla sicurezza di come noi trattiamo il nostro computer, ma nel caso di una falla su un server remoto i nostri dati vengono compromessi, quindi deve essere qualcun altro a difenderci. E' già successo, non so se vi ricordate TheFappening. Sulle mani per TheFappening. Non vi vergognate, dai. TheFappening è stato un esempio in cui i server di Apple, banalmente iCloud, attraverso l'API dell'applicazione mobile, non aveva un controllo sul numero di tentativi di login che venivano effettuati. Pertanto è stato fatto un attacco brute force, sono stati individuati gli account di determinate celebrità e tutte le foto private di queste celebrità sono finite online. Ovviamente una soluzione c'è e si chiama software libero. Perché? Intanto perché il software libero è rappresentato da un'enorme comunità che ha sviluppato un sistema operativo, ossia quel set di programmi, quell'insieme di software che messi assieme ci consente di usare un computer. Ovviamente il sistema operativo è quella base universale sulla quale noi facciamo girare i programmi che l'utente finale usa. E attraverso lo sviluppo di GNU e Linux, GNU è un sistema operativo ormai completo, Linux è il suo kernel, ossia un componente, uno dei tanti software del sistema operativo, che permettono a tutti gli altri software di dialogare con l'hardware. Ossia offre un linguaggio di comunicazione universale attraverso il quale i software possono dialogare con l'hardware, che può essere diversissimo. Il programmatore se vuole fare un programma non deve sapere come parlare con questo determinato tipo di hard disk piuttosto che un altro, deve semplicemente sapere come scrivere un file. La gestione del singolo modello di hard disk sarà in mano al sistema operativo. Per cui attraverso GNU Linux, che è normalmente abbreviato in Linux, noi possiamo avere accesso a una piattaforma libera. Qual è la differenza tra software libero e software open source? Banalmente la differenza sta in dove noi vogliamo porre il nostro punto di vista. Open source si focalizza sul fatto che ci sia il sorgente aperto, si focalizza sulla convenienza dell'avere accesso al codice sorgente. Il software libero invece non è esattamente un sinonimo, il software libero si focalizza sull'importanza della condivisione, sull'importanza della libertà. Quindi mentre il software open source dice questo è il programma ma se vuoi puoi vedere il codice sorgente perché è conveniente poterlo vedere, il software libero in realtà pone la questione in un altro modo. Tu hai dei diritti, noi vogliamo che questi diritti siano rispettati. Ci sono delle licenze, ci sono dei testi legali che permettono agli sviluppatori, agli utenti e ai distributori di tale software di aver garantite legalmente queste libertà. E adesso vedremo quali sono perché nonostante la licenza sia un testo scritto in legalese, abbastanza complesso, ci sono quattro particolari punti sul quale questa famiglia di licenze si basa. Scusate ma gli informatici cominciano sempre a contare da zero. La prima libertà, la libertà zero, è la libertà di avere libero accesso al programma. Nessuno vi può dire che non potete usare quel programma o che non potete usarlo in determinate condizioni. Un esempio che viene solitamente fatto è uno sviluppatore anti-abortista non può impedire che il suo programma, se è libero, venga usato in un ospedale che pratica l'aborto. Perché questo? Sostanzialmente perché laddove si creano restrizioni sull'uso, viene a mancare quella che è la libertà di libero utilizzo, di libera fruizione di questo software. Non so se ve lo ricordate quando venne fatta la legge sull'aborto o la legge sul divorzio. C'erano persone che erano contro questa legge perché io sto bene con il mio compagno o con la mia compagna, perché dovrei divorziare? Attenzione, non è che questa legge è stata fatta affinché tutti divorzino. Laddove ci siano delle criticità, una persona può essere libera di affrontare correttamente queste criticità. Allo stesso modo il software libero ci garantisce che non ci siano limitazioni all'uso del nostro software. La libertà uno, la seconda libertà, è la libertà di cambiare questo software. Io posso adattare alle mie esigenze tale software, posso far sì che questo software faccia ciò che voglio, laddove di default non lo faccia... Se sostanzialmente io ho un software che non fa ciò che voglio esattamente, ma vorrei che si adattasse meglio alle mie esigenze, se io sono in grado di modificarlo, posso farlo, ho il diritto di farlo. La libertà due, la terza libertà è quella di redistribuirlo. È vero che posso tranquillamente ottenere il software e installarlo dove mi pare, ma se io ho un cd, sono autorizzato a clonarlo se voglio e a darlo al mio compagno di classe. Cioè pensate quando ad esempio all'interno delle classi, delle scuole, o anche qui semplicemente all'università, viene detto di usare un determinato software proprietario all'interno delle aule. uno studente magari ce l'ha, un altro studente non ce l'ha. La licenza praticamente vieta di offrire quel programma al proprio collega. Attualmente abbiamo un problema per quanto riguarda AutoCAD ad architettura. Gli studenti sono costretti a usare AutoCAD per seguire il corso, o lo comprano pagando regolarmente la licenza, o accedono alle licenze gratuite dell'università, o non possono accedere al software. Pertanto c'è un vincolo che impedisce la condivisione. La scuola dovrebbe favorire la condivisione. Se una persona porta una torta in classe dovrebbe dare una fetta a ognuno. Quindi la scuola o dovrebbe rinunciare a professare questa diffusione, questa filosofia di diffusione, o dovrebbe dire agli studenti, va bene, violate le licenze, dovrebbe insegnare a violare la legge. Libertà 3 Scusa un attimo Lorenzo, nell'apertidità che hai, altri 5 minuti, chiedo in fondo di diminuire il brusio perché arriva anche da queste parti, quindi capisco che in fondo all'aula già riescono a capirci anche meno. Mi scuso ancora che la location non sia adatta al numero di persone, mi hanno detto che sono arrivate altre 100 persone e abbiamo anche più che non sappiamo onestamente adesso dove metterle. La prossima volta faremo un maxischermo come le partite di calcio se non ci daranno un'aula adeguata o se ci sposteranno di nuovo all'ultimo minuto. Un inciso, mi sono dimenticato di ringraziare il comune di Palermo che ci aveva approntato di corsa correndo uno spazio ai canteri culturali della Zisa. Penso che la prossima volta lo prenderemo prima in considerazione per evitare insomma problemi del genere. Comunque scusami Lorenzo, hai... Allora, dopo di che ci sono delle libertà che ci garantiscono se io ho modificato il software di poterlo redistribuire ad altri come versione modificata e questo permette un'evoluzione dei software un'evoluzione di miriade di software che possono fare la stessa cosa che ci garantisce comunque una possibilità di alternativa. Se non voglio andare da una parte posso sempre andare da un'altra. Cosa succede se noi non siamo sviluppatori? Se noi non possiamo accedere direttamente a queste libertà possiamo sfruttare una comunità di persone che lo sappia fare possiamo affidarci al fatto che altri lo sappiano fare credo sia stato abbassato da lì il volume comunque sotto non si sente, va bene semplicemente possiamo essere spettatori del processo collettivo di sviluppo possiamo aspettare che questa piccola collettività migliori il software per noi e possiamo partecipare in altri modi se ci occupiamo di grafica possiamo curare le grafiche disegnare le icone di un programma e così via se conosciamo più di una lingua possiamo aiutare con le traduzioni io personalmente ho cominciato il mio percorso nel software libero traducendo determinati software per la distribuzione Ubuntu dopo poco le mie traduzioni sono finite anche in altri software e così via non solo ma se noi come informatici abbiamo tantissimo tempo libero a disposizione possiamo tranquillamente metterci a collettivamente sviluppare questo software attraverso le piattaforme che ci vengono attualmente messe a disposizione ci sono piattaforme che ci consentono di mettere il nostro codice far sì che altri lo possano vedere dare il loro contributo e far sì che questo contributo entri a far parte del lavoro della grande collettività ovviamente è una community di persone e queste persone vogliono difendere diritti vogliono difendere questi diritti non solo ma tutti i diritti fondamentali dell'uomo sono tutti collegati tra di loro pensate in un mondo in cui non c'è libertà di parola libertà di associazione libertà di stampa libertà assembleare libertà di controllo degli strumenti di comunicazione o libertà di o diritto alla privacy senza questi diritti noi smettiamo di essere di poter essere effettivamente persone scusate per questa slide resilienza è un termine che usavo da prima che venisse abusato all'interno delle conferenze il software libero è un software altamente resiliente resilienza per chi non lo sappia è un termine molto usato in botanica che è rappresentativo della capacità di trasformare la capacità di adattare ed evolversi di determinati organismi scusami Lorenzo purtroppo ti devi avviare alle conclusioni sono già alle conclusioni di adattarsi alle condizioni nel momento in cui le condizioni cambiano il software libero è immediatamente capace di adattarsi perché appunto tutta la collettività vi può collaborare pertanto se un'azienda non è al corrente del fatto che ci siano determinate criticità in un settore una community sicuramente ci arriva perché una community è già in quel settore non solo ma una delle prime cose che si nota del software libero sono i grandi conflitti all'interno delle comunità i conflitti sono un bene per le comunità poiché creano diversità laddove non si è d'accordo su una cosa si è liberi di sviluppare quella stessa cosa in due modi diversi e vedere quale è vincitore ma questo non crea solamente una dispersione crea la libertà di scelta se voi non volete usare OpenOffice potete usare LibreOffice se voi non volete usare LibreOffice c'è un altro software non mi ricordo scusate non ho dormito stanotte ci sono tanti altri software di questo tipo liberi se non volete usare Firefox c'è Chromium che è la versione open source di Chrome cioè voi siete liberi di scegliere come usare come affrontare la vostra vita digitale non solo ma le comunità nelle loro diversità nel momento in cui prendono strade diverse per visioni diverse mantengono sempre dei canali di collaborazione parrottennata perché a me personalmente le distribuzioni di penetration test esistenti non mi piacevano granché non stavano alle mie esigenze ho deciso di creare il mio progetto ho creato dispersione il lavoro che io potevo fare per migliorare un progetto già esistente si è perso nel crearne un altro in realtà non si è perso perché in realtà questo mio lavoro ritorna all'interno di Debian ossia io poi do di nuovo il mio contributo indietro a Mamma Debian non solo ma laddove vedo che il progetto Tales che è un altro ancora sistema operativo fa delle cose che potrebbero essere convenienti per il mio progetto io mi ispiro a Tales nel momento in cui io ho delle idee che possono servire a Kane Kane può ispirarsi e viceversa io ho rubato un sacco di tools da Kane e così via per cui c'è una grande collaborazione tra questi progetti e laddove c'è conflittualità c'è diversità e dove c'è diversità c'è sviluppo di idee e purtroppo ci sono tante cose ma non c'è il tempo a disposizione ho finito questa era l'ultima parte del mio discorso passo la parola al prossimo relatore queste slide erano parzialmente prese non c'è il tempo a direzzi grazie 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 Grazie.